Forza Marocco! Forza Marocco! Che gioia si prova questa sera! Questa sera facciamo una festa per Marocchino perché il Marocco vinto! Forza Marocco! Forza Marocco! Forza Marocco! Avete mandato Cristiano Ronaldo insomma a casa? Sì solo Cristiano Ronaldo è andato a casa! Scusa Cristiano ma forza Marocco! 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 Viva Marocco! Quanta gioia c'è questa sera! Marocchino Marocco ho giocato con Portugal! Con Portugal Marocchino Marocchino! Da quanto tempo vivete in Italia? 93! Io qui in Italia! Allora questa sera quanta gioia c'è? Ho giocato il Marocco contro... Ho giocato il Marocco! Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Forza Marocco! Forza Marocco! Forza Marocco! Via Filo gioca per l'oro! 1-0! Speriamo che vince il Mondiale! È la prima volta che vince il Mondiale! Forza Marocco! Andiamo! Tu sei nato in Italia? No sono nato in Marocco e sono venuto qua per andare avanti e abbiamo tante cose da fare della nostra vita e dico forza Marocco con tutto il mio cuore! Ti manca la tua terra? Sì mi manca tantissimo da tanto che non vado diciamo che speriamo di ando questo anno sono troppo felice e forza Marocco! Andiamo! Ma questa sera lei è troppo felice? Mamma mia sono troppo troppo felice! Mai mai mai! Sono contenta! Adesso non ci credi! Non ci credi! Noi andate a mezza finale! E dopo quell'1-0 cosa? Sì sì il Marocco giocate bene! È bellissimo! Tutti giocate! Da quanto tempo le vive in Italia? Quattro anni! Crotone come l'ha colto? È bello Crotone! Io ho sposato Crotone, mio marito Crotone, che è un figlio Crotone, mezzo italiano e mezzo marocchino! Forza Crotone e forza Marocco! Forza Marocco e forza Italia! È la prima volta nella storia che andiamo in un semifinale e siamo contenti! Forza Marocco! Da quanto tempo vivi in Italia? Da 20 anni circa! Come ti trovi qui a Crotone? Mi trovo bene, benissimo! Sono nato e ho cresciuto qui! La città ti ha colto sempre bene? Sì certo, sono integrato alla grande diciamo! Sei un crotonese doc? Sì, crotonese doc! Forza Crotone e forza Marocco! Forza Marocco! Dopo, io voglio sapere dopo quell'1-0 che cosa è successo? Dopo 1-0! Dopo 1-0 noi sono contenti perché noi passiamo 1-0 e forza il Marocco! Speriamo continuiamo fino a semifinale, anche il finale, speriamo! E forza Ismail Aschik! E forza anche Ismail Aschik, un morocchino! Lui dare tutti per il morocchino e per il morocco! Forza Marocco! E per il morocchino e per il morocchio, E ho, non provo cadena, vedi un'idea, ma è sempre sera! E ho, non provo cadena, vedi un'idea, ma è sempre sera!